Kikko! Come fa Kikko Forte? Kikko Forte! Kikko Forte! No! Quanti battini, quanti battini, quanti battini, quanti battini, quanti battini! Eeeh? C'è il forno? A quanti gradi lo vuoi mettere? Uno? Va bene, lo mettono in un altro. Chi è così simpatico? Lui! Non voglio lasciarli qui! Si sono via attuali! Eeeh!! 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 C'è perciò il beforese! ecco parte no ciao